Siamo qui al ristorante, ora lascio che ho preso, siamo qui ragazzi senza scampo, cucina di pesce, il posto è carino, il Bob sta qua, i tavolinetti, questa pesce e carne, io ho preso frutti del mare, spaghettini e frutti del mare, mio fratello penso bongole delle asce, guardate è bello ragazzi, è un bello caletto, ragazzi sono arrivate le linguine ai frutti del mare, guardate che bel piattone, bello, Poi abbiamo le vongole e le retelline, bel piattone comunque, assaggiamo un regalo, allora la cremetta poi con il pecoroncino è giusto, bella pure la cremetta di, buone proprio, ma sono proprio buone, assaggiamo anche le vongole e le retelline, allora assaggiamo queste e proprio le vongole, le raci e le retelline, no scusami, dai seduto, seduto, buone queste qua le retelline, bravo, piccoline, però è molto molto buono ragazzi, questo piatto, bel piattino, tutte e due, un bel 9 e mezzo, tutte e due, frutti del mare e queste qua, pasta cotta al dente, mamma mia ragazzo, buonissimo, ci vediamo dopo il conto, allora ragazzi il prezzo, due piatti di pasta, 35, comunque sia ragazzi abbiamo mangiato veramente da paura, mi sono pure un po' abbronzato, veramente è un posto che io consiglio a tutti quanti, sono meglio veramente piatti abbondanti, gentilissimi, voto 10, buon pranzo belli, un bacione, grazie a tutti,